Ora la pallavolo in Serie 2, bella impresa della Siego Impavida Ortona che sotto di 2-7 rimonta e batte Cantù in trasferta. I parziali 25-19, vedete alcune immagini della partita, 25-21, 20-25, 22-25, 13-15. Grande partita dunque del collettivo ortonese con Felice Sette, trascinatore dei suoi, autore di 23 punti, in classifica Impavidi al sesto posto.